Oh Dio mio! Ma lì va a farci! Ma questi sono i segni del Signore! E' troppo per me, Sì no, è troppo! Io mi vergogno, Sì no, mi vergogno perché... Ma perché proviamo a me? Perché proviamo a me? Chiediamo a Gesù che mi toglie il sangue un po' se no! Io voglio morire, voglio morire di sofferenza, ma te nascosti, Sì no, te nascosti! Perché proviamo, figlio mio, perché proviamo! Non stanno andandoci! Come ti senti? Appena così! Dio si è notato! Vai! Questa è un piede di acqua! Francesco, Francesco, Francesco. Francesco, Francesco. Non piaceresti di più a Gesù se tu la smettessi di voler fare il prete. Il tempo è prezioso. Il tempo è prezioso. Non sprecarlo. Non piaceresti di più a Gesù. Ti chiedo per pregare per la tua santa che è il pericolo. Francesco. Francesco! Il tempo è prezioso. Il tempo è prezioso. Non sprecarlo. Se tu sei chi ha voluto fare il prete... Fattone via! Sappi che la tua vita sarà un inferno. Fattone via! Fattone via! Fattone via! Franchi, chi mi è stato? Franchi, come te senti? Andiamo, mamà. Andiamo, andiamo, mamà. Porti un piccolo d'acqua. Sì, sì, sì. 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 C'è l'angelo Gustono che oggi ha deciso di non farlo sfaticato. Come vi permettete magari di rispetto a padre Agostino? Sì. Noi chiediamo scusa, ma voi da qua non ve ne andate. Va bene, va bene. Non porto via nessuno. Piuccio, io qua non ci metto più piedi. Ti voglio bene, ma non ci tengo proprio a prendere una bastonatura per te. Agosti, quando Padre Benedetto si arrabbierà, perché si arrabbierà. Tu dagli questa lettera, però prima leggi il lavoro tu, eh? Facci bene. Eh, vai. Io l'ho sempre sostenuto, difeso, contro tutti, e lui mi ripaga così. E sta a fare la figuola di un imbecile con i miei superiori. Aspettiamo un altro luogo. Vedrete che ci ripenserà. No. Deve rientrare subito, adesso, se non lo fa, è fuori dall'ordine. Perché siete così duro con lui? A questo ragione che io. Su cosa? Niente, dice... Che siete consigliato da Satana. Ah, dice questo di me. Dopo tutto quello che ho fatto per lui. No, 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 io lo faccio spattere fuori. Tenete. Questa ve la manda lui. È la risposta a quei problemi morali che avete con quelle quattro persone. E che da mesi non sapete come risolvere. E lui che ne sa? No, 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 no. Scrivi oggi stesso a padre mio. E... Digni... Che lo autorizzo a restare a piedra il cielo.